Ciao a tutti e bentornati in un mini sampling vlog che li faccio piccoli perché mi divertono e li faccio E non so se avete eseguito su google plus, ho messo un piccolo spoiler e i piccoli spoiler sono questi Allora, non diciamo che è più bello, cioè è più bello, no è più brutto, non è più brutto perché non è vero, perché è molto bello E Rebellion già l'ho provato, qualcuno già lo sa, non mi interessa, io l'ho provato ed è bellissimo perché è un gioco di simulazione E' molto lento quindi non so se fare dei video dove io faccio delle partite oppure faccio anche la campagna, lo vediamo un attimo E poi dopo alla fine lo velocizzo e metto la musica Oppure potrei stare lì, prima lo parlo io da solo e poi ve lo spiego Con molta pazienza perché è un gioco abbastanza E' abbastanza strutturato, è un bello grande strutturato, tanto che è capibile Lo capisci subito Il prezzo, ovviamente Originale Guarda, 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 guarda che mi faccio vedere, guarda Guarda, ti tol dito perché ci sta il codice steam E non me lo ne ruba, no, mio, mio No, già l'ho inserito quindi è già nullo Tanto per fare la canna Comunque ci sono sia le istruzioni Sia i due DVD Perché ci sta Un normale, e questo dovrebbe essere un'espansione della musica Ma non mi interessa perché io la musica non la tengo E poi ci sta il mega poster figo Che non sapevo che c'era C'è Si vede, si vede Il poster figo Si vede Bellissimo Oddio, vi ho fatto vedere il codice Mi pare Non mi pare Quanto non lo potete usare Che mi sto preoccupando affatto Ehi, aspettate che vi metto tutto dentro Perché sennò mi fate fare il bottello e io rosico Oh, perfetto E questo Ah, il prezzo Ragazzi 5 euro Meglio la scocca Ma va bene Steam è bello Però Io ho pagato 5 euro Da GameStop Solo perché era un po' vecchio 2008 Ma è un gioco epico Ha una grafica Divina È una cosa che ti fa veramente morire E passiamo Al pezzo forte Ah, no scusate Ah Guarda, guarda Guarda Il pezzo lo faccio vedere Alla fine Lo faccio vedere Legend Ci sono due Legend Underworld E Anniversary E sono Credo che Gli ultimi Tre usciti Può essere Comunque Io amo Tomb Raider Bella Scocca Guarda quanto è bella Ovviamente le basti che questa qui È quella che trovi Tra i cassetti loro Dice E sta sconto Prendilo Poi non c'è sta niente dentro Ma c'è Ce la vede E Ci sono rimasto un po' bugiare Perché pensavo che c'è stata l'istruzione Ma invece non c'è C'è sta lo scontrino Non so se Si Vedi Eccolo Lo scontrino perché Vabbè questo qui l'ho pagato poco E Su questo non l'ho fatto Su questo qui Perché ha il coach di Steam Quindi l'ho messo in Steam E va fu un buono E a queste invece gli ho fatto l'assicurazione Qui a tre anni 1,50€ Non ho pagato niente E L'ho preferito perché È un gioco che io amo Io ho giocato del primo Che era Il Domedixian Dario Signor Comunque Mi piacerebbe da morire E Lo giocarei ancora Perché l'avrò finito fra tante volte E L'ho visto Ho detto no Deve essere mio Bellissimo Quindi ci sta Legend Anniversary E Underworld E l'ho messo in questo modo Perché io mi ricordo che Legend è il primo Cioè Il più vecchio Poi c'è l'anniversario E Underworld Quindi farò Questi tre Ehm Rimetto lo scottino dentro Perché è importante Per l'assicurazione E non voglio perderla Perché mi piace E anche questo E anche questo L'ho pagato veramente tanto L'ho pagato E' bello Voglio giocarlo Scusate Hai visto il pigiama Non ho la pigiama Non è vero Ehm Sono belli Tutti e due Questo Bello perché è tattico Questo è bello Perché ovviamente Tomb Raider E' il lavoro della mia vita Ragazzi c'è una ragazza Ehm Vabbè Parliamo di ragazze Ehm Ragazzi per questo vlog è tutto Credo che già sei minuti Siano Potroppi Oddio Non mi sono mai così stavano i capelli Scusate l'ignoranza Ehm Non vedo l'ora di giocarlo Vi dico l'idea Ho la bada Ehm Quando quando hai fame E vedi la roba passata davanti C'hai la bada Oh si voglio giocarci E non puoi Perché Anche questo Credo che lo farò Un Ehm Un video Un pubblico Un video Un pubblico Come ho fatto con Don Starva Che io amavo E ovviamente sono morto come un cane bastonato Quindi Un saluto Vi ringrazio e Ciao a tutti Ciao a tutti